Un obiettivo a lungo inseguito e ormai concreto. Il nuovo attaccante dell'Arezzo, salvo colpi di scena, si chiama Simone Dell'Agnello, Livornese di origine, classe 1992. Nell'ultima stagione è stato tra i giocatori determinanti del Como, con 10 gol messi a segno su 29 presenze, per il ritorno in Serie C proprio della formazione comasca. Debutto tra i prof proprio con il Livorno, era la stagione 2011-2012, 5 presenze in Serie B, che diventano 15 con una rete messa a segno nella stagione successiva. Quindi nella stagione 2013-2014 viene mandato a fare esperienza al Sud Tirol in C1, 5 reti su 20 presenze, poi Barletta senza segnare ma giocando poco, Savona 3 gol su 25 presenze, Serie C stagione 2015-2016. Quindi l'anno seguente il ritorno a Livorno, un gol su 12 presenze. Quindi Cuneo, dove torna a segnare con una certa continuità, 8 le reti su 32 apparizioni, stagione 2017-2018. Di nuovo il ritorno a Livorno in Serie B senza giocare, tanto che a ottobre va al Como, dove appunto nello scorso campionato ha messo a segno 10 reti. Una carriera anche sfortunata la sua per i tre infortuni al crociato ed altre complicazioni che ne hanno rallentato la carriera.